La bandiera a scacchi comincia ad intravedersi in lontananza e il gruppo alle spalle della capolista cavese è sempre più compatto. Cinque squadre in appena sei punti per un girone H di serie D che si preannuncia combattuto fino all'ultima curva. Il rischio assolutamente concreto per tutte le contendenti è quello di ritrovarsi a fine campionato a contare i punti persi con le squadre di seconda fascia o addirittura di terza. Emblematico a tal proposito il passo falso del Nardò nella trappola del Fittipaldi contro il Francavilla. Una sconfitta che complice la vittoria esterna del Barletta in quel di Nocera inferiore ha fatto scivolare la squadra di Mister Ragno al terzo posto a meno due dai biancorossi e a meno quattro dalla vetta occupata dai campani Francesco Farina. Però nell'immediato post-Nocerina Barletta ha provato a scoperchiare il vaso di Pandora. Per me vincere a Pugliese. Io sono convinto che il campionato vincere a Pugliese. Potrei sembrare presuntuoso nel dire questa cosa. Le squadre che vincono i campionati non prendono tanti gol. L'Acavese comunque prende tanti gol. Penso che poi deve andare a Casarano, a Brindisi, a Molfetta, a Bitonto. È dura perché sono tutte partite complicate come ce l'abbiamo noi. Però io mi auguro che vincano a Pugliese perché mi trovo in Puglia. Più che per questo, per un fatto di ospitalità. Al di là della mera dialettica e delle frasi che possono sembrare di circostanza, le parole di Farina inquadrano la realtà. L'audace Cereniola nel campionato vinto lo scorso anno ha chiuso con 27 reti subite e la migliore difesa del girone H di Serie D. Discorso quasi in fotocopia per il Taranto nella stagione 2020-2021 con appena 23 gol subiti ma senza la palma di difesa meno battuta. Le provocazioni del tecnico Biancorosso dunque non sono puro esercizio stilistico. Barletta, Nardò, Casarano e Brindisi hanno tutte le carte in regola per mettere in discussione la vetta occupata dalla Cavese.